Brutto a tutti ragazzi, sono Giacomino007 su questo video con Dario Power Ciao a tutti Lui ha 200 iscritti, vabbè Iscrivetevi in una commenta Iscrivetevi al suo canale E oggi siamo qui per fare una challenge Esatto Lui dovrà risolvere 4 cubi Più cubi possibili, insomma Esatto E lui un cubo E io uno Quindi... Ok, ecco Allora... E tu no, io mi scrivo il tuo, tu mi scrivo il tuo Ok Ovviamente ci... Ok, siamo qua Io ho 4 cubi mischiati Lui usa il mio gun Perché? Non importa Non abbiamo il cronometro Ma comunque iniziamo Ok No, aspetta Ok, ragazzi In realtà Abbiamo il cronometro L'abbiamo provato Eccolo qua Pronti tutti? Fai partire 3 Aspetta che devo 15 secondi Ok, 15 secondi per guardarli Io non ho già guardato uno Allora sono 7 secondi A vero chi c'è? Ok Aspetta 3 2 Aspetta Metti giù 3 2 1 Via Signori siamo partiti Ovviamente io perderò Io farò un cubo Devo ancora indichiare Io ho già fatto i due strati Io devo ancora fare la faccia bianca Io l'ho quasi finito Eh ma come devi fare l'imboto? No, ho avuto la fortuna che erano già investiti a posto Primo fatto Ok Secondo strato Il secondo strato Io l'ho fatto il primo in 20 secondi Ok Attenzione Ho fatto il secondo strato No No Ma sono scarso Ho fatto il secondo cubo signori Ho sbagliato un algoritmo Ho sbagliato un algoritmo Ok Si godo Ah è tanto Sono l'acqua C'è bianca Così c'è Eh sì Dove cavolo è? Qua Signori ho quasi fatto il terzo Io mi sono perso con un algoritmo Ho fatto il terzo cubo signori Siamo a 1 minuto e 23 Oddio se faccio pure questo prima di lui E lui aveva detto Ma non servono così tanti cubi Guarda che le faccio in un minuto Siamo a 1 minuto e 30 Dove siamo? Ah devo mettere a posto gli angoli Odì no Ecco No No sono scarso Oddio ho quasi finito questo No Ho sbagliato un algoritmo Signori ho fatto pure questo No non ci credo Oddio Ho sbagliato un algoritmo Quattro cubi fatti In un minuto In due minuti Oddio Quattro cubi in due minuti Ah io ho sbagliato Ci vediamo quando Guardate quanto gli mancava Ok è sbagliato Aspetta guarda guarda Bastava fare così 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 Ok adesso rimescoliamo Ok io Lui me ne mescola 5 Perché Perché sono lento Esatto Io ti mescolo il tuo No fallo dopo Signore e signori Mi sono accorto adesso Che è da un anno Che faccio il cubo C'è Ma forse no No forse è da 11 mesi Non mi ricordo Comunque ho iniziato Ho iniziato a fare video a febbraio Quindi Che figo Ok ok ci siamo Io ho i 5 cubi mischiati E io uno Magari dopo faccio pure una figura Fermo 15 secondi per vedere Ok Oh no Non fare mosse Guarda che ti ho visto eh Stai dentro la videocamera Così vedono tutti Ecco mi metto pure io Ecco Ok Ci sono 3 Anche io Aspetta stop 3 2 1 Via I suoi amatre I suoi binaci Però Stavolta Dai diciamo che sono partito bene Finalmente Due strati fatti Eh sì Ok Io devo ancora fare la croce bianca La faccia bianca Primo cubo fatto In 23 secondi Poi Questa Eh sì Ok Ok Attenzione Ehm Ho quasi fatto il secondo Ehm Ok Sto facendo il secondo strato Secondo cubo fatto Quanti ne hai da fuori? Eh ne ho altri 3 Eh ne ho altri 3 Sto facendo questo Oh grande Eh sì più o meno Eh eh Quanti cubi ti mancano? Pochi Siamo a minuto 18 Ok ho fatto pure questo Mi dispiace perché Vabbè Oh mi dispiace perché Cosa? No ma è girato qualcosa Ehm Che ti devo dire Ragazzi cambiamo cubo Ok io ho fatto tipo Ok ragazzi abbiamo scoperto che I rubi Esatto Erano girati Girati Le ho girati lui mentre L'hai fatto tu all'inizio Boh Allora Ti sei fregato da solo Mescoliamo Sì Te lo mescolo io Eh te lo mescolo io il tuo Ok Sarebbe il mio Mescoliamo Ok Ok Eccoci qua Io ho 5 cubi mescolati E io 1 E qui iniziamo E il cronometro Voi Signori 15 secondi per vedere Ok Oh bello questo Grande 3 Ci sono 3 Aspetta 3 3 Fermo 3 3 2 1 Via Io ho anche un algoritmo Del Friedrich Lo uso sempre E la chi fermo vero? No No sono stupido Fermo 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 Ok Guarda che continua Prima che ho fatto per me Devo ancora fare la croce bianca GG Veramente? E allora qua le faccio mille Le faccio mille No A parte che ho sbagliato Cheat Odino E qua? E qua? E qua E qua E qua E dove va l'ultimo cubetto? Ok Secondo cubo fatto Sto facendo il secondo strato Dunque Così Mi tengo questo pezzo Per Ok Perfetto Io fra un mese vado a fare la gara Di cubo? Di cubo? Oh sì Incredibile E qua? E qua E ora? Sì È fatto? Ok lui l'ha fatto in un minuto e 44 Io finisco questo Sì Avanti eh E poi risolvo questo Ok Ok Dai che ho quasi finito questo Ok Io ne ho fatti quattro questa volta In due minuti e 0-1 Quindi due secondi più E noi ragazzi vi salutiamo Vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali Specialmente al mio perché devo arrivare a 100 iscritti E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao Ciao Ciao